Ma se l'aspettava? Mi aspettavo un ottimo risultato. L'ho sempre detto, più vicino al 60 che al 50. Il mio padre ha detto subito che la Capone sarebbe andata dal 24 al 27 e io dal 62 al 65. Quindi l'ha beccata proprio... Non so come l'abbia fatto. Già alle 3 e mezzo ho chiamato Francesca, che non era con me, la mia compagna, dicendole abbiamo vinto. Quindi quella sarà la prima telefonata fasta. L'ho fatta io. Sì, ho detto abbiamo vinto. E mi ha detto come è possibile, già alle 3 e mezzo ho detto sì, abbiamo vinto. Il giornale l'ha etichettato l'ultimo dei Moicani. Spero che questo non comporti un taglio radicale ai lati del capo. Sono diventato un fenomeno da carrozzone, diciamo. Mi portano in giro per mostrarmi come la donna cannone o... Però sa qual è il destino poi di questi fenomeni? Che si ritrovano in lista in Parlamento. Io ho preso un impegno con i miei concittadini. E quindi il 2013 mi sembra troppo vicino. Credo che sia stato un riconoscimento del buon lavoro svolto dalla mia amministrazione. E l'altro aspetto, secondo me, significativo, è che la nostra non è una campagna elettorale di due mesi. Cioè la fase di ascolto e di dialogo con la nostra città, con la nostra comunità, non si riduce ai due mesi di campagna elettorale. C'è stata anche una fragilità dei competitori che l'ha, come dire, agevolata? Probabilmente erano più concentrati, come il loro costume, sulla attività di denuncia. E questo, secondo me, ha favorito il centro-destra, ha favorito me. Ha penalizzato però il senso di una campagna elettorale. Salvemmi nel più votato del centro-sinistra. Sono contento di questo. Sarebbe stata un'altra campagna elettorale con lui candidato? Non lo so. Questo non lo so. Quando qualcuno cercava di instillare nei vertici del mio partito l'idea che con Paolo Perrone si rischiasse di perdere. Chi? In generale, anche dagli altri partiti. La scorsa consigliatura è iniziata subito con grandi scogli di fronte a me da superare. Vi ricordate quelle trattative che dovevamo fare per la composizione della Giunta, quando c'erano i rappresentanti di Alleanza Nazionale che non volevano sedersi allo stesso tavolo dei rappresentanti della città? Ce lo ricordiamo. Oppure quando dovevamo decidere di votare il primo consiglio utile, bisognava votare per il presidente vicario del consiglio e il gruppo di Alleanza Nazionale votò scheda bianca, dando via libera la nomina di Tauricelli. Oppure quando bisognava fare la Giunta e fui costretto a minacciare una Giunta tecnica perché non riuscivamo a trovare la quadra. O quando al primo bilancio Alleanza Nazionale non entrò e io ero praticamente dimissionato in quella fase. Anzi lì ci fu, e io devo dare atto, la presa di coscienza di qualche amico del centro-sinistra che mi dette l'appoggio esterno. Adriana Polibortone l'ha chiamata? Mi ha mandato un sms di congratulazione. A lei ha risposto? Io ho risposto, con un sms. Continuerete via sms per tutti i cinque anni di consigliatura? I rapporti sono cordiali. Quando arriverà la Giunta? Ritengo che questa volta non avrò le difficoltà che avevo l'altra volta. Che mi hanno obbligato quelle difficoltà ad attendere allora la metà di luglio. Ti sei intorno ai mille voti, sta tranquillo? Chi ha preso cifre importanti è chiaro che non si può prescindere da quel risultato. E poi ci sono ragionamenti che riguardano anche l'esperienza. È chiaro che il PDL deve avere il giusto riconoscimento. Significa anche il vice sindaco? Questo lo vedremo, direttore. Su questo veramente non abbiamo riflettuto. Alfredo Mantovano ha ottenuto tre consiglieri, ne te racconto? Chiaro, il loro contributo lo hanno dato, hanno ottenuto un risultato, hanno ottenuto tre consiglieri che da soli prendono quasi duemila voti. Ci saranno donne in giunta? Sì, ci saranno donne in giunta. Donne al plurale? Ci saranno, diciamo che i sessi, ambo i sessi saranno rappresentati. Come la legge dice? No, come dice il nostro statuto. Ci saranno esterni? Non lo escludo. Non lo? Non lo escludo. Non sto dicendo sì che ci saranno, però è una possibilità, diciamo, che non mi voglio precludere. Saranno tecnici? Saranno esterni, lei mi ha chiesto esterni. L'identikit dell'esterno, esterno, poi che sia tecnico, esterno politico, tecnico politico, eccetera, questo lo vedremo.